Sfruttava le prostitute anche in alcuni appartamenti di Vicenza e Padova la banda fermata da un'operazione congiunta della Polizia di Stato e Guardia di Finanza di Verona. Otto italiani residenti nella provincia scaligera sono stati oggetto dell'ordinanza di misure cautelare disposta dal GIP a seguito di due filoni di indagini paralleli promosse dalla procura di Verona. Sei persone sono finite direttamente in carcere, due invece ai domiciliari dopo il blitz scattato simultaneamente ieri mattina all'alba. Tutti accusati di associazione delinquere, violenza sessuale aggravata, truffa, ricettazione e detenzione d'armi. La banda avrebbe operato nel nord Italia anche in altre province tra l'estate del 2021 e la primavera dello scorso anno. Diversificate le attività criminali della banda, i finanzieri nel 2022 avevano avviato le indagini dopo un'operazione antidroga che aveva portato al rinvenimento di un traffico illecito d'armi. La polizia di stato invece è giunta ad identificare gli stessi criminali attraverso un'indagine contro lo sfruttamento della prostituzione e la raccolta delle denunce delle donne sfruttate. Gli introiti incassati formalmente dalle stesse vittime attraverso carte prepagate a loro nome erano poi gestiti dai criminali.